Ciao a tutti. Oggi è molto importante della festa dell'Annunzazione. La data della celebrazione al 25 marzo è legata tradizionalmente a quella del 25 dicembre. Noi sappiamo bene del Natale. L'Annunzazione è stata collocata quindi nel giorno esatto alla nona mese prima del Natale. L'origine della festa del 25 marzo probabilmente risale al IV secolo in Palestina, dove si celebra il ricordo dell'Annunzazione e quindi della relativa annunzazione. Il mistero che la Santa Chiesa celebra oggi è l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Lei era stata scelta dal Signore fra tutte le donne ad essere la madre di Dio. E l'incarnazione del verbo del suo seno purissimo.